Buonasera a tutti, ben ritrovati. Stasera ti propongo un piatto, le zucchine cotte in padella, prima le taglio a rondelle, poi condisco con maggiorana e erba cipollina. Metto sopra un pochino d'olio e mezzo bicchier d'acqua, 100 ml d'acqua e dopodiché le faccio andare col coperchio coperto per circa un quarto d'ora, alla fine tolgo il coperchio e le faccio andare per altri circa 5-10 minuti, dipende da quanto è lo spessore della zucchina. Infine, stasera mentre cucevano le zucchine, ho cotto la carne che ho fatto, le cottelette alla mianese, eccole qua che le sto cucendo, in contemporanea si riesce a fare entrambe le cose, come abbinamento è un buon piatto e in più quando tolgo le cottelette io utilizzo molta carta, prima le metto a volte nella carta per far assorbire l'olio di cottura e dopodiché le trasferisco in un altro piatto, in modo tale che in questa maniera qua sono più leggere. Io ti auguro una buona serata.